I tre moschettieri, testi adattati di Peter Lenoir, illustrazioni di Tony Wolff, casa editrice Dami, terza parte. La perfida Miledi. Ripercorsi la strada per Calais e incontrai Atos Porto e Aramis. Erano stati tutti feriti durante il nostro viaggio verso l'Inghilterra ma quando ci ritrovammo stavano già bene così tornammo a Parigi insieme. L'unico mio dispiacere era di non aver più incontrato Costanza. Sembrava sparita nel nulla. Forse era impegnata con la regina oppure non voleva vedermi. Ahimè, non sapevo che il cardinale per vendicarsi dell'affare dei fermagli l'aveva fatta rinchiudere in un convento. Un giorno, mentre passeggiavo a cavallo per la città, vidi sporgersi dal finestrino di una carrozza la dama che aveva per un attimo intravisto a Calais. Se riesco a parlarle, forse scoprirò l'identità del mio misterioso nemico con la cicatrice, mi dissi. Così decisi di seguirla. Avevo il sospetto che c'entrasse qualcosa con la faccenda di fermagli. La vidi discutere con un cavaliere che alzava la voce. Mi avvicinai. Non date fastidio alla signora, dissi. Di cosa vi impicciate voi? Reagì lui con violenza. Lasciateli in pace o ve la vedrete con me, ribadì. D'accordo, ci vediamo a mezzogiorno al convento dei carmelitani, concluse lui. Poi si girò e se ne andò. La dama si rivolse a me. Signore, vi ringrazio dell'aiuto, ma non dovevate. Quel cavaliere è mio cognato, il conte di Winter, mi spiegò lei con voce dolce. E io sono Lady Clarisse, ma tutti mi chiamano Miledi. Era inglese, ma parlava un francese perfetto. Sono d'Artagnan, cadetto di Guascogna, mi presentai. Il duello con il cognato di Miledi durò pochissimo. Vinci senza fatica e senza fare del mare al mio avversario. Infatti mi invitò a casa sua per cena. Lì incontrai di nuovo Miledi, che mi accolse con gioia. Caro d'Artagnan, è un vero piacere di vederti. Mi trovo tanto simpatico che mi invitò anche il giorno seguente. Rimasi con lei a chiacchierare per l'intero pomeriggio. Ero certo che Miledi conoscesse il cardinale Richelieu. Ora dovevo solo capire se lei sapeva chi fossi io. E non ci volle molto per scoprirlo. Una sera, dopo essere stato a cena lei, invece di andarmene, mi nascorsi nel suo guardarobba e spiai dal buco della serratura. Credendo che me ne fossi andato, Miledi cominciò. Ti odio d'Artagnan, mi hai fatto fare la peggior figura della mia vita. Il cardinale non crede che abbia rubato i fermagli a Buckingham e non si fida più di me. è tutta colpa tua e la farò pagare cara. Poi si sfilò il vestito per mettersi la camicia da notte e vidi qualcosa di terribile. Aveva un giglio tatuato sulla spalla. Quello era infatti il marchio dei ladri. allora sei una finta dama. Ma una ladra vera, gridai. Miledi aprì la porta dietro la quale mi nascondevo e gridò. Tu? E poi. Guardi aiuto, c'è un intruso nella mia stanza. Cosa potevo fare? Presi a caso un vestito, un mantello e una cuffia e li indossai sopra la divisa. Come travestimento non era granché, ma era sempre meglio di niente. Con un balzo mi gettai giù dal balcone e sfuggì alle guardie di Miledi. Quella signora che corre con la cuffia è d'Artagnan travestito! gridò Miledi dal balcone. Mi misi a correre come un pazzo per le vie di Parigi e solo con gran fatica riuscì a seminare i miei agguerriti inseguitori. I preparativi per la battaglia. Arrivai trafelato a casa di Athos dove trovai Portos e Aramis. Ma cosa ci fai vestito a quel modo? rise Portos. Sei ridicolo? aggiunse Aramis. E così che vuoi andare in guerra? si stupì Athos. Guerra? Quale guerra? domandai. Ma come? Non sai che stiamo partendo tutti per Rochelle? disse Athos. La patria ci chiama. Dobbiamo difendere l'onore del re e della Francia, concluse Aramis, solenne. Cogliti la gonna d'Artagnan e prova una di queste divise, disse Athos. Con l'aiuto di un sarto riuscimmo a sistemarci per bene. Indossata l'uniforme, Athos propose di ripetere il nostro giuramento. Allora incrociamo le spade e gridammo in coro. Tutti per uno? Uno per tutti! Poi partimmo al galoppo per la Rochelle. Giunti all'accampamento ci unimmo al resto dell'esercito francese e ci preparammo a un grande evento. Il re avrebbe passato in rassegna le truppe. Dopo che il re Luigi ebbe sfilato davanti al suo esercito schierato, scavammo le trincee e mettemmo i cannoni in posizione. Di tutto sotto lo sguardo attento del comandante in capo, il cardenale Richelieu, era la mia prima occasione di farmi valere in battaglia e non vedevo l'ora di coprirmi di gloria. Fu per questo che l'indomani accettai di andare insieme agli altri due soldati in avascoperta vicino alle mura della città assediata. Ma presto scoprì che i due avevano un solo scopo, sbarazzarsi di me. Per fortuna me ne accorsi in tempo e mentre stavano per colpirmi a tradimento li gettai a terra con una mossa fulminia. «Allora, chi vi manda?» domandai con tono minaccioso. «Eh, nessuno!» valbettò uno dei due. «Ti ho chiesto chi ti manda!» ribadì, passandogli sotto il naso la lama affilata della mia spada. «Una signora molto bella! Non so chi sia, ma tutti la chiamano Miledi!» disse il tipo con un filo di voce. «Sparite!» gridai. «Sempre lei!» pensai tra me e me mentre tornavo indietro. Giunto alla mia tenda trovai a Athos Portos e Aramis e raccontai loro ciò che mi era successo. «Dobbiamo fermare Miledi!» disse Athos preoccupato. «Prima che sia troppo tardi!» aggiunse Aramis. La lettera pericolosa. Pochi giorni dopo io e i miei amici incontrammo il cardinale Riscellier in una locanda. Si recava al piano superiore e Athos, passando davanti al tubo di una stufa, sentì la sua voce. «Ascoltammo attenti!» «Miledi!» diceva il cardinale. «Voi dovete fare in modo che il duca di Buckingham non rappresenti più un pericolo per me!» Miledi si billò. «Accetto! pur che in cambio voi mettiate in prigione d'Artagnan! E poi voglio che Costanza Bonasciù non esca più dal convento in cui l'avete fatta rinchiudere!» «D'accordo!» tagliò corto lui. Poi le consegnò una lettera su cui c'era scritto. «Qualsiasi cosa abbia fatto il possessore di questa lettera l'ha fatta per il bene della Francia!» Firmato il cardinale Riscellier. «Grazie Eminenza! Questo foglio mi sarà molto utile!» mormorò Miledi. «Eravamo preoccupati! Quella lettera è pericolosa! Ora Miledi potrà fare ciò che vuole!» disse Ramis. «Dobbiamo mettere le mani su quel foglio!» osservò Portos. «Ci penso io!» esclamò Athos. Uscì dalla stanza, passò vicino a Miledi e senza che lei se ne accorgesse le rubò la preziosa lettera. La mattina dopo i miei amici si svegliarono dicendo «Dobbiamo parlarti! Ma andiamo in un luogo appartato dove nessuno possa sentirci!» Decidemmo di andare a fare colazione su un bastione nemico dove di certo nessuno ci avrebbe seguiti. La faccenda era comunque pericolosa perché la zona era occupata dei nemici che appena ci videro cominciarono a addosso. «Non si riesce mai a mangiare in pace!» si lamentò Portos. «E non si riesce a discutere! C'è troppa gente!» osservò Ramis. «L'unica soluzione è parlare mentre si combatte!» suggerì Athos imbracciando il fucile. Così, tra un attacco nemico e l'altro, discutemmo degli avvenimenti. riuscimmo a finire la colazione e anche a decidere quello che c'era da fare. Dopo aver sgominato gli avversari, tornammo all'accampamento. All'arrivo raccolsero le grida festose dei nostri compagni. Eravamo diventati degli eroi, ma io ci feci poco caso perché erano ben altre le mie preoccupazioni. Moschettieri del re. Io e i miei amici ci consultammo. La cosa più importante era avvertire tutti i nostri amici delle importanti notizie segrete di cui avevano parlato il cardinale Miledi. Avevamo deciso di scrivere due lettere. La prima era per la regina Anna. Le chiedevamo di guardarsi dagli intrighi del cardinale e le rivelavamo uno per uno tutti i suoi ultimi complotti. La seconda era per Buckingham. Gli raccomandavamo di stare attento alle pericolose spie del cardinale, le stesse che lo avevano derubato dai fermagli. Così, grazie ai nostri avvertimenti, il cardinale non poté più realizzare i suoi perfidi piani. Ma mi aspettavo una sorpresa. Un giorno l'uomo con la cicatrice, Rochefort, tenne a cercare alla locanda dove stavo pranzando con i miei amici moschettieri. Appena lo vidi, stavo per aggredirlo. Volevo fargliela pagare una volta per tutte, ma non potei. Lui mi disse, sogghignando, che era in missione ufficiale. Era stato incaricato dal cardinale di condurmi da lui, insarmato naturalmente. Fui costretto a recarmi da risceglier, che mi accusò di aver commesso tutta una serie di reati, per i quali io e i miei amici avremmo pagato con la vita. Vi farò condannare come spie, mormorò il cardinale in tono minaccioso. Questa è la vostra fine. Io remavo dalla paura, ma poi ricordai di avere con me la lettera, la lettera scritta da risceglier, che avevamo sott'atto a Miledi. La porsi al cardinale dicendo, leggete signore questa lettera, da voi stessa firmato. Autorizza chi la porta con sé a compiere qualsiasi azione per il bene della Francia. Il cardinale impallidì e non trovò le parole per ribattere. Avevo vinto. La lettera ci aveva salvato. Risceglier farve riflettere. Poi mi guardò con uno sguardo non più minaccioso, anzi quasi di rispetto. Scrisse alcune parole su un foglio e me le porse. Non volevo credere ai miei occhi. Ero stato nominato moschettiere, anzi luogotenente dei moschettieri. Grazie Eminenza, riuscì solo a balbettare. Poi corsi dai miei amici per dar loro la buona notizia. Ora sei dei nostri d'Artagnan, esclamò Porto soddisfatto. E la sei proprio meritata, amico mio, disse Athos con orgoglio. Evviva d'Artagnan, evviva i moschettieri, gridò Aramis felice. Il giorno successivo il signor Treville mi consegnò la nuova divisa da moschettiere. Ero tanto emozionato che feci fatica a non lasciarmi sfuggire neppure una lacrima. Un moschettiere non deve piangere, pensai, mentre indossavo la casacca. Me la sistemai sulle spalle, mi girai verso i miei più cari amici e... Vidi che tutti si asciugavano gli occhi col fazzoretto. Allora non è vero che un moschettiere non può piangere. Forse semplicemente non deve vergognarsi di piangere, pensai. Uscì Coatos, Portos e Aramis per festeggiare tutti insieme il grande evento. Chi l'avrebbe detto che sarebbe andata a finire così? Quando ero partito da casa mia? Quante avventure, quante peripezie, quanti pericoli, ma anche quante soddisfazioni. ero felice, assolutamente felice. Voce narrante, la maestra Fuffi Grazie. Grazie. Grazie.